buongiorno e ben ritrovati a tutti andiamo a fare una bella routine di cool down e quindi di raffreddamento e quindi del faticamento dopo un'attività qualsiasi attività ovviamente questi esercizi potete farli anche come esercizi fini a se stessi cioè singoli adesso intanto andiamo a sciogliere le caviglie quindi facciamo la piccola marcia sul posto solo con le caviglie quindi mobilizzando i nostri piedi i tempini del metatarsio un pochino dobbiamo scioglierli un po e poi piano piano aprendo le gambe alla larghezza circa delle anche in modo molto lento e fluido facciamo uno squat quindi la posizione della sedia le braccia lontane i glutei che si portano verso la terra ovviamente fino a dove siamo comodi in ispirazione scendiamo in espirazione torniamo su con i talloni ben appoggiati dei respiri ampi e profondi fino a rimanere là a sentirci allungare a molleggiare un po e a stare nella posizione per appoggiare poi le mani sulle cosce belle comode aprire le spalle e tenere la stiena bella lungata e soffiando l'ombelico rientra il colchile si radica inspirando relax espiro inspiro e ancora inspiro e una mano si appoggia a terra l'altra mano rimane lì scioglio un attimino apro il braccio al cielo in torsione se ce la faccio allungo anche la gamba fino a dove arriva e sempre se sono comoda porto il braccio dietro alla schiena prendo bene la spalla ritorno e cambio la mano scende l'altra sale l'altra gamba si allunga fin dove arriva apri dal centro delle spalle e alla fine se vuoi portare anche il braccio dietro alla schiena e su e giù piega estendi le gambe estendile solo fino a dove arrivi mantenendo i polpastrelli delle tue mani a terra rimani l'allungamento schiena rilassata e poi srotola una vertebra per volta prendendo in dentro l'ombelico il corcice scende e sali piano piano inspira e di nuovo espira e scendi una vertebra per volta per volta giù appoggi i polpastrelli inspira come guardare avanti se non ce la fai con le gambe distese efflecchile un po' e poi scendi e srotola e risali espira e una volta che sei con la testa in giù intreccia le tue mani estendi le braccia verso il cielo e ritorna di nuovo risali una mano si porta al fianco l'altra sale al cielo allunga il fianco respira aprendo bene le spalle e cambia immagina proprio di allargare le mie toracce quindi il fianco che si estende si espande e ritorna apri un po' le tue gambe piegale un pochettino appoggiati con le mani estendile una e l'altra e l'altra e porta la mano come a terra verso il piede opposto e cambio e uno due rimani lì se ce la fai scendi un pochino di più sollevando il piede se non ce la fai rimani più su e cambio la scendi scendi se ce la fai fino a giù se no rimani un po' più su e allunga entrambe le gambe afferrati dietro alle camiglie appoggia piega le tue gambe srotola sal e giù chiudi sciogli le spalle tre bei cerchi grandi e radica le tue scapole una bella circonduzione con tutto il braccio ruotando anche il busto da un lato e dall'altro come a guardare il palmo della tua mano inspira espira giù inspira avanti su espira dietro e giù ultimi due e ora da lì una gamba in avanti l'altra dietro allunga il polpaccio tallone a terra alla punta del piede il più possibile in avanti e piano piano cambio l'altro respira e stai e respira e piccola marcia sul posto in espira e ora appoggiati contro il muro con una mano che afferri la caviglia lunga il quadricipite se ce la fai stacca la mano dal muro e allenati un pochino anche sulla stabilità e appoggia e cambia puoi girare dall'altra parte se vuoi appoggiarti al muro o altrimenti rimanere in equilibrio radicando bene l'alluce a terra fissa il tuo punto abbassa le spalle e appoggia e piano piano scuoti le tue gambe scuoti anche i tuoi polsi e intrecciando le mani fai un bel cerchio in tutte le direzioni immagina proprio di ruotare i tuoi polsi nelle varie direzioni sciogli nell'altro senso e sciogli anche le dita delle mani aprile e stringile bene una volta col pollice all'interno e una volta col pollice all'esterno delle altre dita e di nuovo respira in marcia sul posto lascia le braccia oscillare bene e ora da lì un bel movimento ampio come un pettine ti vai come a pettinare i capelli lunghi fino in fondo passi l'avambraccio sopra la testa inspiri ed espirando rilassi questo apre molto la spalla e la postura e da qua sciogli il bacino piccola rotazione dei coccige in un senso e nell'altro e ora e ora dello psoas porta una gamba indietro l'altra avanti solleva il tallone scendi un pochettino con la gamba dietro bella distesa se ce la fai e col bacino prova ad andare un po' in retroversione come col cocci scendi un po' verso il basso fino a sentire allungare l'apice della tua coscia anteriore e cambio l'altro lì scendi un pochettino fino a che non senti quell'allungamento e ora di nuovo questa volta appoggia il ginocchio a terra se fatichi appoggia di sopra un cuscino o qualcosa di morbido e scendi ancora un po' di più rilassa il dorso del piede fino a sentire proprio allungare ancora lo soas apri leggermente il piede anteriore e gira leggermente di lato una piccola torsione ritorna appoggia la mano l'altra gara indietro e cambio scendi quella a fondo basso appoggia la mano apri leggermente il piede e gira in una piccola torsione senti proprio questo bell'allungamento respira ritorna e porta la punta del piede a terra ritorna a chiudere le tue gambe a portare i piedi paralleli afferrati con le mani dietro le caviglie come a portare la pancia fra le cosce allunga le gambe solo fino a dove arrivano senza far salire la schiena adesso senti che sale troppo piedali un po' rilassa anche il collo le braccia le spalle tutto il corpo come fosse appeso e poi pian pianino srotola spalle giù testa e braccia intreccia le mani stira bene le tue braccia al cielo allungati nelle opporse direzioni bene bene e poi rilassa bravissimi per essere arrivati fino qua questa è un'ottima routine di defaticamento adesso puoi proseguire con delle sessioni un pochino più intese di stretching ti consiglio di continuare a seguirmi un pochino più